SIGLA Sei al corrente delle cose, è questo che fai. Tu riesci a ottenere informazioni e le converti in una materia orribile. Che significato ha spendere per te? Un dollaro? Un milione? Diffida dei modelli standard. Esci da quegli schemi. Tu hai bisogno di sentirti eccitato. È la tua natura. Questa è una protesta contro il futuro. Vogliono tenere a distanza il futuro. È uno scandalo, mio caro. Morire è uno scandalo, ma lo facciamo tutti. Lui è in giro ed è armato. Mi fa sentire libero come non mi sono mai sentito. Libero di fare cosa? Ciao a tutti, benvenuti ad Anteprima Cinema. Vi lascio con il trailer di oggi e subito dopo vi aspetto per le notizie di cinema. La storia è inaccessibile. E mani odori di sesso. La violenza richiede una causa. È interessante stare vicino a un uomo che vogliono uccidere. Il futuro è impaziente. Andrà presto qualcosa. Forse oggi. È sulle sue tracce. Voglio di più. Fammi provare una cosa nuova. Distruggere il passato. Creare il futuro. Lionsgate ha ufficialmente annunciato che il nuovo regista del sequel di The Hunger Games, Catching Fire, sarà Francis Lawrence. Entrambi i film sono ispirati alla serie di libri di Susan Collins che solo negli Stati Uniti ha venduto 36 milioni di copie. I produttori sono molto entusiasti di questa scelta perché pensano che questo regista sia perfetto per rappresentare questo tipo di storia, dopo progetti come Io sono Leggenda, Constantine o Acqua per gli Elefanti. Tutto il cast del primo film riprenderà i suoi vecchi ruoli, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, solo per nominarne alcuni. Il film uscirà il 22 novembre 2013. E per oggi è tutto. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.